Come è un po' di disagio a pensare a questa tematizzazione, se non in realtà come tentativo di investigare quello che è certamente un crocevia di problemi, ma che riguarda la storia della guerra partigiana in generale, se penso a cosa succede fra partigiani e popolazione civile, a cosa succede fra le singole formazioni partigiane coinvolte nell'amministrazione o nella gestione di una zona liberata, allora penso che quella è una grande occasione per capire livelli di politicizzazione, livelli di integrazione, livelli di consapevolezza e politica da parte del movimento partigiano e delle popolazioni che si trovano a conviversi per la prima volta in maniera così stretta e continuativa. Se la guardo da questo punto di vista mi interessa moltissimo perché è una possibilità di verifiche complessive, la storia di ogni singola zona in sé invece a me non mi appassiona. Un altro tema che secondo me è sempre abbastanza assente, che influsso sulle memorie antipartigiani lascia le conseguenze terrificanti del fatto che queste zone vengono ovviamente spazzate via. E l'altra grande questione, tutto sommato, che resta sempre sotto traccia ma che dal mio punto di vista è decisiva, la formulerei così, quanto le zone libere, lo studio, le ricerche sulle zone libere sono in grado di scoprire, di evidenziare dei mutamenti nei rapporti fra le varie formazioni partigiane. in qualunque situazione, da Montefiorino all'Ossola, alla Carnia, al Fiulio orientale, in ogni caso non c'è mai stato un comando unificato che funzionasse, che non fosse una pura messa in scena realizzata all'ultimo momento. Quando arrivano i tedeschi si resiste tre ore o tre giorni, ma le accuse su chi ricada la responsabilità prima di non avere fatto un vero comando unitario, il secondo di non essersi battuti bene, il terzo di aver scelto una linea difensiva più rigida, più morbida, eccetera, il livello di contrapposizione, se questo è il momento della maturità partigiana, allora il livello di contrapposizione tra forze partigiane di vario orientamento, che ne consegue, in che cassetto lo mettiamo. Secondo me lo studio di quelle zone è anche la dimostrazione del livello estremamente fragile di unità possibile fino allora raggiunta. Da un punto di vista di storia militare della guerra partigiana, le zone libere sono una tragedia, una tragedia perché sono il momento dove diventa straordinariamente visibile e inepivocabile che tu non sei minimamente in grado di reggere il confronto con delle forze strutturate. Se si parla di utopia si parla poi di costi che qualcuno pagherà per questa utopia, costi che poi hai pagato in termini di memoria antipartigiana o anche in termini di… se uno vuol chiedersi, ma è esistita nella storia nazionale da 44 in poi una egemonia culturale della resistenza, tra i motivi secondo me che vanno presi in considerazione per pensare, se si pensa come me che non c'è stata questa egemonia, che quel tipo di situazioni ci offrono molte occasioni per ragionare in concreto.